Avete già sentito le ultime novità? Il digital marketing è la svolta per tutti i professionisti del settore beauty. Volete scoprire come? Allora iniziamo. L'era digitale e i social media. Nell'era digitale di oggi, padroneggiare i social media non è più un'opzione. È fondamentale. Che tu sia un estetista, un parrucchiere, un nail artist, un tatuatore, un esperto di extension per ciglia o gestisca un centro benessere, questa guida è perfetta per te. Il sogno di diventare virale. Immagina di pubblicare un TikTok che diventa virale o di creare un post su Instagram che attiri orde di clienti alla tua porta. Sembra un sogno, vero? Beh, è assolutamente realizzabile. Questo libro, Come trovare nuovi clienti e usare i social media per il marketing, è il tuo kit di strumenti definitivo. Contenuti coinvolgenti e strategie vincenti Impara a creare contenuti coinvolgenti, a usare titoli accattivanti e a sfruttare al meglio gli hashtag per potenziare la tua presenza online. Inoltre, c'è una sezione speciale dedicata allo sviluppo del tuo algoritmo vincente, strategie personalizzate proprio per il settore beauty. E non è finita qui. Scopri come sfruttare strumenti come Google Maps per farti trovare facilmente dai clienti. Che si tratti di promozioni a breve termine o di strategie a lungo termine, questo libro ti assicura che i tuoi sforzi sui social media portino risultati duraturi. Consulenza personalizzata E per un consiglio personalizzato, prenota un corso con Alex, il nostro guru del marketing per il settore beauty. Ottieni strategie su misura e porta la tua attività a nuovi livelli. Non farti superare dalla concorrenza. Quindi, non lasciare che la concorrenza ti metta in ombra. Padroneggia i social media e trasforma la tua passione in un successo strepitoso. Acquista la tua copia oggi e inizia il tuo viaggio verso l'eccellenza del digital marketing. Ce la puoi fare!